Eccoci ritornati ancora insieme, dunque questo 27 gennaio è una giornata particolare, importante nella vita del nostro santo di padre Pio da Pietrelcina perché ricordiamo l'anniversario della sua professione perpetua, della sua consacrazione totale al Signore nell'ordine dei frati minori Cappuccini e per parlare di questo argomento abbiamo con noi in studio il direttore Stefano Campanella, buongiorno Stefano, bentrovato. Bentrovato a te e ai nostri telespettatori. Prima di partire con la nostra breve chiacchierata però vediamo un servizio che riassume questo evento importante. Un minuto con padre Pio dal coro della chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie, il luogo dove il 20 settembre 1918 padre Pio da Pietrelcina ricevette le stimmate, indossava questo saio e dell'importanza di questo saio oggi vogliamo parlarvi perché padre Pio, anzi fra Pio da Pietrelcina aveva 19 anni e 8 mesi, si trovava nel convento dei frati minori Cappuccini di Sant'Elia Pianisi, siamo nel Molise dove nel suo iter formativo continuava i suoi studi ed il 27 di gennaio del 1907 il giovane fra Pio da Pietrelcina fa la sua professione solenne, dice sì per sempre a Cristo e diventa frate per tutta la vita promettendo i voti di castità, obbedienza e povertà ed infatti a Sant'Elia Pianisi si custodisce il documento olografo dove lo stesso Pio da Pietrelcina sul registro delle professioni solenni scrisse io fra Pio da Pietrelcina studente Cappuccino avendo compiuto quattro anni di religione richiesti dei decreti pontifici dopo la professione dei voti semplici da me fatta nel noviziato di Morcone nella provincia di Sant'Angelo il 22 gennaio del 1904 essendo oggi in età di 19 anni mesi 8 giorni 2 in questo giorno 27 gennaio 1907 ho fatto la mia professione solenne nel convento di Sant'Elia Pianisi nelle mani del padre provinciale padre Raffaele da San Giovanni Rotondo attuale guardiano alla presenza della famiglia religiosa e specialmente dei reverendi padri qui sottoscritti come testimoni dichiaro poi che questa solenne professione è stata fatta di mia libera volontà e perciò mi considero quindi innanzi come legato per sempre ai voti dell'ordine dei Cappuccini sotto la regola del serafico padre San Francesco è solo ed unico fine di attendere al bene dell'anima mia e di dedicarmi interamente al servizio di Dio in fede mi sottoscrivo di proprio carattere corredato pure con giuramento oggi nel convento di Sant'Elia Pianisi 27 gennaio 1907 fra Pio da Pietrelcina e in questo giorno fra Pio da Pietrelcina nel convento di Sant'Elia Pianisi ecco dice il suo sì definitivo a Cristo seguire Cristo sull'esempio di Francesco promettendo castità obbedienza e povertà potremmo dire che il mese di gennaio Stefano è un mese spartiacque per la vita di Francesco Forgione e di Fra Pio da Pietrelcina poi come abbiamo ascoltato dal servizio di Francesco perché pochi giorni fa abbiamo ricordato ecco un altro evento importante a Morcone la vestizione di padre Pio e oggi ricordiamo proprio la sua professione solenne voglio ricordare una data 25 gennaio 1904 che poi la data in cui padre Pio fra Pio si è trasferito proprio da Morcone a Sant'Elia Pianisi che è in Molise per iniziare ecco la preparazione poi alla professione solenne a gennaio padre Pio con la vestizione il 22 del 1903 oltre a vestire per la prima volta l'abito cappuccino cessa di essere Francesco Forgione perché nella circostanza assume il nuovo nome di Fra Pio da Pietrelcina a gennaio fa la professione cosiddetta semplice o temporanea per tre anni e il 27 gennaio a Sant'Elia Pianisi fa quella cosiddetta solenne o definitiva perpetua quindi effettivamente è il mese che lo ha legato di più a l'ordine frate minori cappuccini ed è anche comunque il mese che ha determinato le prime tappe per un cammino che a Sant'Elia a Pianisi il 27 gennaio del 1907 ha avuto questo momento topico cioè la consagrazione definitiva ma che proprio a Sant'Elia Pianisi ha avuto i presupposti anche per quelle difficoltà per quei problemi di salute che poi avrebbero portato padre Pio più volte a stare fuori dal convento perché durante una gitarella fatta da Sant'Elia Pianisi a Casa Calenda lui con altri studenti furono sorpresi da un acquazzone in seguito al quale cominciarono tanti di quei problemi di salute che padre Pio dovette addirittura rischiare l'ex claustrazione cioè di venire buttato fuori dall'ordine dei cappuccini. Ecco che periodo è stato per padre Pio tra appunto come dicevo prima il 1904 e poi questo 27 gennaio 1907? L'anno di noviziato cioè quello dal 1903 al 4 è stato durissimo perché il noviziato è proprio l'anno della prova durante il quale i candidati a diventare frati alla professione temporanea fanno una vita controllata e di grandi penitenze tanto è vero che negli atti del processo di padre Pio si conserva anche una sorta di dialogo fra padre Pio ed un altro novizio come lui che poi divenne frate come lui fra Anastasio da Roio il quale non sopportava le privazioni le penitenze del noviziato e suggeriva a padre Pio ce ne andiamo ce ne scappiamo e padre Pio riferendosi a lui Giovannin perché si chiamava Giovanni il fra Anastasio prima di diventare appunto frate Giovannin abbiamo fatto tanto per entrare in convento e adesso ce ne vogliamo andare per un po' di penitenza ma fu un anno così duro che partirono in tanti e soltanto tre arrivarono alla meta della professione perpetua quindi davvero all'epoca era duro il noviziato ed era un anno di prova vera e propria per mettere veramente in difficoltà la vocazione per capire se era una reale vocazione oppure se era una sorta di rifugio perché all'epoca tanti si rifugiavano in convento perché a casa non c'era il pane neppure per sfamare tutte le bocche presenti in famiglia. E a Sant'Elia padre Pio conosce una figura di cappuccino esemplare il monaco santo ecco è stato è ricordato ancora oggi così padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi che è venuto a mancare pochi anni prima del suo arrivo a Sant'Elia Pianisi e padre Pio scrive delle parole bellissime non l'ha mai conosciuto di persona però diciamo la sua presenza si sentiva nelle stanze del convento anima candida ed eletta di padre Raffaele che influenza ha avuto questo monaco santo nella vita di padre Pio? Sicuramente notevole perché la santità di vita di padre Raffaele oggi riconosciuta dal decreto sull'eroicità della virtù per cui padre Raffaele è venerabile ma all'epoca era la cosiddetta vox populi per cui tante persone di Sant'Elia che fra Pio all'epoca sicuramente frequentava perché la chiesa del convento era il punto di riferimento di tutti i credenti all'epoca erano tutti credenti e tutti andavano a messa molti di loro avevano conosciuto padre Raffaele avevano ancora vivi i ricordi e quindi avevano trasmesso a padre Pio l'esemplare figura di al futuro padre Pio l'esemplare figura di questo padre Raffaele che non era soltanto un uomo di santa vita un uomo di penitenza ma per i santeliani era una sorta di punto di riferimento perché durante il periodo della soppressione il convento fu chiuso e fu trasformato in mulino e alcune stanze furono lasciate ai frati o meglio al frate e per concessione straordinaria solo a lui a padre Raffaele perché anche le autorità politiche riconoscevano in lui un uomo saggio e santo lui potè presidiare il convento a differenza di quello che è accaduto in tutti gli altri conventi della provincia e mantenere viva la presenza cappuccina a Sant'Elia quindi sicuramente una figura che ha influito parecchio sulla formazione del futuro padre Pio la Sant'Elia però nasce anche quella che è stata definita la cosiddetta vocazione missionaria di padre Pio in quel periodo padre Pio ecco ci sono i primi aneliti alla missione sappiamo che poi per i motivi di salute ecco padre Pio non ha potuto ottemperare a questo desiderio sì in effetti in quella circostanza poté incontrare il ministro generale dell'epoca ed esprimere il suo desiderio chiaramente il generale non poteva sbilanciarsi più di tanto dinanzi ad un frate che era ancora in formazione però ecco questo anelito di portare il Vangelo alle persone lontane dalla chiesa le persone che non conoscevano Cristo trova la sua culla proprio in questo clima di Sant'Elia Pianisi dove lui visse anche due esperienze particolari probabilmente la prima bilocazione certamente la prima di cui padre Pio abbia mai parlato e anche un'esperienza diabolica che potrebbe essere una delle tante ma che in questo caso è stata descritta molto bene in alcuni appunti autobiografici Oggi 27 gennaio ricordiamo la cosiddetta giornata della memoria ecco tutte le vittime dell'olocausto e della furia nazista abbiamo visto nel servizio Stefano l'abito di padre Pio così caro a padre Pio ecco quello stesso abito è stato portato ad Auschwitz uno dei luoghi simbolo di questa giornata dovremmo vedere anche delle immagini se la regia ci può dare una mano con questo abito che è entrato nella cella in cui è morto padre Massimiliano Maria Colbe un altro grande francescano un altro grande santo del XX secolo ecco raccontaci un po' qualche dettaglio da questo punto di vista intanto l'intento era proprio quello di portare l'abito nella cella di padre Massimiliano Colbe però le dimensioni della cella di Colbe erano così piccole ecco l'immagine ecco non lo hanno consentito quindi questo gruppo di frati questa delegazione ha portato l'abito all'interno del complesso di Auschwitz e come state vedendo lo ha appoggiato accanto alla finestrella minuscola di quella cella che era peraltro sotterranea quindi questa finestra era in alto rispetto alla cella e lì davanti accanto all'abito di padre Pio c'è stato un momento di preghiera animato dal rettore del santuario che era il capodelegazione e subito dopo con una reliquia di padre Pio una pezzuola con cui astergeva la ferita del costato siamo entrati tutti all'interno di questa minuscola cella buia, piccola, angusta e con questa reliquia di padre Pio con questa presenza comunque ecco la state vedendo la reliquia questa pezzuola c'è stato anche lì un momento di preghiera e un canto e idealmente ecco questo è il momento in cui fra Francesco e gli altri frati della delegazione stanno entrando in questo sotterraneo dove c'è la cella dove è stato rinchiuso e dove è morto padre Massimiliano Colbe quindi c'è stato questo momento di preghiera e di canto che ha unito idealmente i due santi il santo martire anche lui francescano frate minore conventuale ecco questo è il momento di preghiera significativo pensate la cella era così piccola che non solo non entrava l'abito delle stimate di padre Pio all'interno della sua teca ma io stesso che ho fatto queste riprese con il mio telefonino ero quasi al ridosso dei frati non riuscivo ad allontanarmi un po' più indietro e a fare una ripresa totale di tutti coloro che erano in preghiera perché non c'era lo spazio quindi pensate quanta penitenza ha dovuto fare padre Massimiliano Colbe prima di essere ucciso proprio all'interno di quella cella ci piace far rivivere questi momenti anche i nostri amici telespettatori perché unire questi due santi ecco questi due martiri come appunto li hai definiti tu è importante soprattutto in una giornata come questa in cui abbiamo ricordato ecco la vestizione solenne di padre Pio e quest'altra grande tragedia che ha colpito tutta l'umanità Stefano allora grazie per essere stato con noi a voi della pazienza nell'ascoltarmi e ci rivedremo sicuramente prossimamente per riparlare di padre Pio noi ora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e proseguiremo con la nostra diretta grazie a tutti